buonasera buonasera a tutti skype mi dice che stiamo registrando sono franca da criscio vi saluto tutti e insieme a me questa sera c'è il dottor luca tacchi buonasera luca ciao a tutti buonasera un saluto ad angelo marotta che ci ospita anche se solo in in spirito e però era impegnato stiamo registrando quindi a casa sua lo salutiamo siamo ospiti insomma e quindi un saluto al nostro padrone di casa per la gentilezza concessa e sentiamo un po orfani a dire la verità la sua mancanza ci si sente manca l'angelo custode diciamo che questa sera vogliamo parlare di sara scimmi e della sua storia allora sara diciamo la storia si svolge la notte fra l'otto e il 9 settembre 2017 sarà scimmi a 19 anni frequenta il quarto anno di un istituto socio sanitario è molto conosciuta in zona perché fa anche del volontariato abita con sua madre che è separata da suo padre antonio e ha una sorella giulia che già vive per conto suo quel giorno ha un appuntamento con le amiche per passare una serata in discoteca una discoteca che non è molto distante dalla sua abitazione circa quattro chilometri ma in quella serata è previsto anche l'appuntamento con un ragazzo è un ragazzo che ha conosciuto da poco tramite facebook lo ha già visto lo ha già incontrato di persona e ne ha anche parlato in famiglia quindi non c'è alcun segreto su questo per questa ragione il pomeriggio dell'otto settembre passerà lo passerà insieme a sua sorella giulia facendo shopping alla ricerca del giusto abbigliamento per quella serata intorno alla mezzanotte passeranno le sue amiche a prenderla e vanno in discoteca la serata si svolge regolarmente come sempre come ogni serata in discoteca e alle 2 45 arriva il ragazzo naturalmente sarà si allontana con lui passerà un po di tempo insieme a questo ragazzo alle 13 a 7 sarà viene vista sola fuori dalla discoteca da un conoscente credo che questo conoscente si chiamasse matteo è un amico di famiglia che conosce bene la ragazza quindi la riconosce e guarda anche l'ora guardando l'orologio sono esattamente le 13 a 7 quindi scambia qualche parola con la ragazza così di saluto e poi si allontana si allontana sono le 13 a 9 e lui ricorda di averla vista avviarsi a piedi verso l'incrocio che è vicino a quella discoteca passano 4 al massimo 5 minuti arriviamo alle 3 e 24 quando delle persone noteranno distesa disteso sul manto stradale di una strada regionale la 429 un corpo di una ragazza purtroppo si scoprirà presto che si tratta proprio di sarà scimmi quindi chiedevo a luca come è stato possibile che questa ragazza abbia potuto percorrere i 700 metri che distano dal luogo dove è stata vista per l'ultima volta da matteo e andarsi a distendere su in quella stradale in solo 4 al massimo 5 minuti sì corretta ricostruzione da parte di franca come sempre allora questo ci sono due misteri in nel nella vicenda scimmi che sono uno per questi quattro minuti mancanti nella narrazione che non chiariscono avvengono talmente tante cose in cinque quattro minuti da far impazzire e poi c'è tutto un mistero che avviene da dopo la il rivenimento del del corpo di sara e qualcosa che accade durante le indagini e durante le fasi processuali che dopo tratteremo primo mistero appunto sono questi quattro cinque minuti mancanti perché matteo circostanzia la sua testimonianza eh con le evidenze che porta su eh whatsapp sapete che whatsapp eh se non alterate voi il il numero il l'orario eh del telefono whatsapp e internet e telefono eh prende l'orario comunque dal sistema eh internet mondiale quindi avrete sempre l'orario aggiornato a quello che è quello degli orologi atomici concettualmente che eh sono sui satelliti che sono poi eh sul sul sistema internet e quindi ci sono se vogliamo fare dei i i i farmacisti ci sono chiaramente non è un orario però comunque su Whatsapp se non hai alterato il telefono quello è l'orario comune che tutti abbiamo quindi lui riesce a circostanziare l'ultimo incontro che ha con Sara tra le 13 a 7 e le 13 a 9 perché? Perché sono tra due messaggi che lui ha sul cellulare e quindi lui riesce a circostanziare perfettamente questo orario qui lui subito il giorno dopo poi andrà volontariamente a circostanziare il fatto quindi ha una genuinità perché era un amico già dalle elementari della sorella, era un amico di Sara sa di essere l'ultimo testimone diciamo almeno fino a quel momento lì della vicenda poi è chiaro ci deve essere qualcosa che è successo dopo però diciamo che lui è l'ultimo che sappiamo ufficialmente come testimone quindi lui fondamentalmente sapete un po' com'è che vanno certe situazioni lui si è esposto rischiando anche di essere poi accusato di qualcosa perché fondamentalmente sarebbe l'ultimo ad averla vista in vita di quelli non magari implicati poi quindi lui si si espone lo fa per coraggio e per amicizia e per affetto nei confronti di Sara e la sua famiglia quindi come va a finire che chiaramente poi a un certo punto viene visto anche come ma no non è attendibile eccetera eccetera così perché perché la narrazione che poi a un certo punto voleva essere data stonava con quel 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 blocco orario lì che andava a restringere clamorosamente quei minuti e e quindi noi abbiamo questi quattro minuti cinque perché appunto tra le tre diciannove e tre ventiquattro avviene qualcosa e alle tre e ventiquattro poi chiaramente ci sono dei secondi però tre e ventiquattro il camion investe un corpo che a quanto pare era già morto sdraiato in mezzo alla strada quindi non al lato della carreggiata verso la cunetta per dirvi verso il fossetto laterale ma proprio in mezzo sulla linea di mezzeria quindi implica già qualcosa in più perché se una fosse sdraiata a bordo della strada già sarebbe più semplice per alcune cose invece era proprio in mezzo alla strada il camion arriva vede questo qualcosa a terra rallenta ma non frena perché era a mezzo carico e quindi frenare avrebbe implicato il rischio di perdere il controllo ma comunque frena e va in una sorta di frello motore schiva il corpo quindi questo è molto importante quindi quello che succede alle 3.24 il camion è in corsia va col quiz control va per conto suo va tranquillo a un certo punto vede qualcosa si sposta nella corsia di sinistra va a cavalluccio del corpo e con la ruota destra interna non con l'esterna sinistra cioè non con quella interna sinistra ma a destra quindi quella che è al se non sparo oddio ho un quella interna con l'interna destra mi ricordo con l'interna destra ho un attimo un lapso spero dovrebbe essere interna destra e prende il volto del corpo di Sara che atterra quindi praticamente e con la posteriore cioè comunque con praticamente il camion sapete ha la parte motrice anteriore questo era un tir quindi era un auto articolato era motrice e rimorchio lungo non la prende con le ruote anteriori della motrice ma con le posteriori del rimorchio quindi il camion l'aveva evitata diciamo gli era passato sopra passato sopra proprio come dire a cavalluccio senza calpestarla fino a che poi non è dovuto rientrare in corsia perché sapete che il camion quando esce dalla propria corsia e va nell'altra corsia va in diagonale poi essendo molto lungo per portare le ruote posteriori a cavalluccio della linea di mezzeria deve sporsi molto nell'altra corsia e a un certo punto è dovuto rientrare per forza in in carreggiata perché se no andava contro gli alberi dell'altro lato del lato sinistro e quindi con la ruota interna destra ha colpito il volto chiaramente facendo molti danni e lei era già distesa non era distesa e trasversalmente o comunque diagonalmente tra corsia e corsia sulla linea di mezzeria sulla linea di sorpasso chiamiamola così la linea centrale della strada quindi il camion ha evitato un corpo che era già in diagonale ritorniamo a questi quattro minuti che avvengono prima appunto come diceva Franca la ragazza era in discoteca aveva oltre l'appuntamento con gli amici aveva un appuntamento chiamiamolo galante con un ragazzo che si frequentava con cui si frequentava da dieci giorni e alle due quarantacinque appunto esce dalla comitiva e va porta avanti questo questo incontro poi ci sono varie testimonianze c'è qualcuno che la vede al telefono con però il suo telefono era scarico e chi la vede dice stava discutendo al telefono un telefono che però non era il suo perché il suo era scarico già da prima quindi c'è questo piccolo punto interrogativo durante la tra le due 45 e le 3 e 17 poi le 3 e 17 esce da sola parla con Matteo con cui parlano del più e del meno e lui la vede comunque lucida la vede comunque in una persona tranquilla non vede una persona che si strascicava ubriaca o qualcosa e poi la vede incalminarsi scena mancante 324 è sdraiata a terra nel processo viene lì per lì si pensa che sia stata investita dal camion ok perché te trovi una persona a terra in mezzo alla strada dici vabbè è stata investita dal camion si apprenderà che non era morta quando il camion è arrivato soltanto al processo per il camionista quindi prima di andare in questo dettaglio dobbiamo capire che qualcosa era accaduto prima che fosse sormontata sormontata dal camion altra cosa curiosa che emerge dall'autopsia è una frattura in vita del femore a 40 cm circa da terra anche questo è strano perché premesso che il nel senso un urto con un veicolo è chiaro che produce lesioni multiple di vario genere di tutto ok però anche se a un certo punto gli inquirenti cercheranno di far pensare che in realtà non c'è mai stato un urto col muso del camion il camion è passato sopra indenne fino a che dovendo rientrare non l'ha dovuta calpestare quindi lei non ha lesioni da urto con un camion che è come sbatte contro una parete a 20-30 km orari ok ma ha un danno però al femore che che però conserva le le caratteristiche di un di una frattura avvenuta ad un corpo vivo ora poi continueremo a vedere che quale altre cose curiose vengono vengono dall'autopsia però perché si dice si fa la differenza tra ferite in vita e ferite non in vita o elimine vita vengono dette alcune perché le fratture in vita rilasciano una copiosa fuoriuscita di sangue o altre sostanze date da ci sono altre altre sostanze che poi vengono il corpo secerne quando è in vita e quando ha una ferita sia a livello dei tessuti che a livello osseo maggiormente chiaramente si parla di formazione del livido dell'ecchimosi dell'avversamento di sangue ok è una reazione immediata che c'è anche di gonfiore eccetera eccetera poi ci sono quelle all'imine vita cioè quelle che avvengono tra vita e morte quindi chiaramente ci sarà un parziale e poi invece le fratture a corpo morto sono quelle che avvengono dopo il il decesso stesso le ferite post mortem sono quelle che presentano la lacerazione del tessuto la distruzione del tessuto la frammentazione del tessuto ma senza un oggettivo versamento di sangue in pressione ma ci sarà soltanto il versamento di un sangue ormai stazionario ok poi altra curiosità che emerge dalla dall'autopsia e più che altro dall'ispezione cadaverica che era che il una delle due converse che aveva rosse curiosamente le scarpe rosse che è il simbolo del femminicidio e una delle due scarpe rosse era sciolta slegata quindi era con i lacci laschi lontana dal corpo e questo potrebbe anche essere dovuto comunque al successivo rotolamento anche perché in realtà non è proprio rotolata ma ha girottolato su se stessa ha trottolato su se stessa cioè quando è stata colpita dal corpo dal camion scusatemi non ha rotolato tipo penna sul tavolo ma ha trottolato su se stessa sul bacino ha girato così quindi per forza centrifuga è normale che una scarpa possa volare via il problema è che sapete che le converse secondo quali tipi sono hanno quel laccio piatto che comunque potrebbe anche non essere così semplice da slegare anche perché lei era solita tenere le scarpe molto ben legate infatti l'altra era molto legata quindi c'è questo dubbio che lei fosse con una scarpa sciolta vi lascio un attimo la versione poi la trattiamo dopo e aveva il calzino arrotolato cioè srotolato a mezzo piede quindi come se comunque o si stava spogliando oppure comunque quando poi la scarpa per l'energia centrifuga è andata via è ha portato via poi per attrito un pezzetto di calzino che si è arrotolato sul piede poi aveva altra cosa curiosa la cerniera dei pantaloni abbassata anche lì si stava spogliando la stavano spogliando oppure capita ognuno sapete anche voi che spesso ci si alza e la cerniera è giù e ti dicono attenzione quindi però è suggestivo già che comunque ora fosse una persona che stava sul divano diceva beh se era sbragata sul divano no questa è la uscita dalla discoteca e quattro minuti dopo era in quella situazione lì quindi qualche dubbio in più bisogna farcelo venire sempre dall'autopsia emerge un tasso alcolico di 1,40 e qualcosa però la famiglia e quindi farebbe ipotizzare no gli inquirenti ipotizzano diceva beh era ubriaca camminava sul bordo della strada poi a un certo punto non capiva nemmeno più dove era si è fermata a legarsi una scarpa in mezzo alla strada del camion l'ha stempiata e in realtà no perché aveva una frattura in vita e quindi comunque non è compatibile con un camion che ti arriva addosso non frenando a 30 all'ora perché se il camion ti prende a quella velocità oltre a fare un grosso danno alla calandra quindi alla parte anteriore del radiatore del 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 camion hai dei dei grossi traumi da schiacciamento soprattutto la scena poi è stata presa da una telecamera dalla telecamera del distributore e in piedi non si vede da nessuna parte esatto poi infatti andremo anche su quello poi che sono le e quindi quindi la teoria che inizialmente viene portata di lei che è comunque era ubriaca e comunque è in realtà stona con quella poi che è la verità processuale del primo grado del camionista la famiglia però si oppone a questo 1,4 perché perché le analisi poi si si viene a sapere non sono complete ora se io prendo il sangue a una persona che è morta già da ore il sangue inizia un processo di fermentazione soprattutto in presenza di zuccheri l'alcol sapete che è uno zucchero complesso quindi automaticamente cosa aumenta quando c'è la fermentazione se non proprio il il tasso alcolico ok quindi per prendere un conto è se io prendo faccio le analisi della persona viva in quel momento lì perché c'è il sangue che gira il fegato e c'è tutto il sistema diciamo che è in vita e funziona un conto se 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 spengo la persona e dopo ore vado a prendere capirete che c'è un'alterazione com'è che allora si va a controllare invece quello che era il tasso alcolico al momento con l'umor vitrio dell'occhio e quando poi la famiglia ha fatto una perizia di parte visto che appunto non era aveva si bevuto uno o due bevute in discoteca ma niente di devastante ok anche perché 1 e 40 significa una cosa come siamo sulle per una ragazza come lei sarebbe saremmo sui 6 cocktail ok invece comunque almeno poi insomma ognuno c'è chi li regge più chi li regge meno però chiaramente con 1,4 già si inizia poi ci sono delle tabelle volendo uno inizia a vedersi che sbiace parcolla invece Matteo la ricorda esatto quindi questa è la scena in cui viene trovata quei minuti prima l'ipotesi è che sia stata in qualche maniera portata su una macchina in qualche maniera lei sia uscita poi da questa macchina questa macchina l'abbia colpita abbandonata per strada e subito dopo è avvenuto l'incidente col camion perché perché appunto e qui si inizia ad entrare nella parte del primo processo perché cosa succede inizialmente cercano il camion e il camionista non si fermerà al momento dell'investimento e quindi del del sormontamento del cadavere ok diciamo così brutte parole però è così e il camionista per motivi suoi non si ferma e quindi fa diciamo fa un'omissione di soccorso lui testimonierà che non era convinto di aver schiacciato una persona le sembrava un manichino le sembrava un sacco di spazzatura e c'è questo atteggiamento un po' così di dire non pensavo fosse niente di grave però poi aggiungerà una cosa a un certo punto dirà però ricordo bene che nel momento in cui facevo questa manovra sulla piazzola intravedevo al lato della strada quindi al di là della piazzola e degli alberi un cellulare acceso e qualcuno come se avesse un cellulare acceso in mano quindi lui scapperà verrà poi nelle ore successive della domenica individuato il camion e verrà appurata la traccia di sangue quindi dello schiacciamento sulla ruota posteriore interna gemellare del rimorchio ora sapete le ruote gemellari sono quelle che i camion i mezzi pesanti hanno per aumentare la capacità di carico nella parte posteriore ed hanno due ruote attaccate si chiamano ruote gemellari comunque inizierà poi il processo il processo finirà e lui viene viene appunto imputato per omicidio stradale con aggravante dell'omissione di soccorso il problema è che quando poi con l'autopsia viene fuori che lei era già morta decade l'omicidio stradale e siccome era accessorio l'omissione di soccorso decadrà anche quello e quindi in primo grado viene assolto ora oggi è il 17 febbraio dopo domani il 19 c'è l'appello per questo camionista dove potrebbe cambiare qualcosa perché appunto il primo grado è stato assolto e quindi il 19 ci sarà l'appello poi dopo il 19 avremo l'intervista con Giulia Scimmi che è la sorella di Sara e quindi commetteremo quello che sarà appunto l'appello del 19 e poi ci dirà invece Giulia con parole sue ci racconterà lei la storia di Sara e di quello che è successo quindi siamo sempre lì a cercare di capire questi quattro minuti questi quattro minuti appunto l'ipotesi è questo che avvenga qualcosa con dei ragazzi e con una macchina come diceva giustamente Franca c'è un benzinaio là davanti lì vicino nei pressi del Caleido allora il la telecamera del del benzinaio e poi Giulia ci racconterà qualcosa in più io evito di dire perché sono alcune cose che io preferisco non dire però tanto poi vi racconterà Giulia comunque il camionista il benzinaio ha questa telecamera puntata proprio su sul piazzale e si vede l'incrocio ora vi spiego come funziona c'è la strada la 4-6 quella che è la regionale sulla destra il benzinaio pochi metri dopo l'incrocio con una confluenza a sinistra T che è da dove si verrebbe dalla discoteca poi un altro pezzo di rettilineo e poi c'è il punto in cui è avvenuto l'incidente se voi poi andate su Google Map vedete dove è il Caleido ritrovate lì praticamente il Caleido ha una strada asfaltata che va fino all'incrocio e poi in realtà ci sarebbe una strada sterrata davanti quindi c'è la possibilità di fare quella strada in meno metri sì il problema è che Matteo l'ha vista andare verso l'incrocio asfaltato e poi comunque la sera a quell'ora lì fuori pieno di macchine parcheggiate di genitori che aspettano anche i ragazzini che quindi non è il posto desolato lì c'era il mondo là davanti infatti poi quando parleremo della parte processuale ci saranno anche altri argomenti da trattare quindi ehm la telecamera riprende questo incrocio si vede nel video una macchina che sfreccia bianca argentata una macchina che poi si scoprirà di possibile fabbricazione tedesca quindi una quella che abbiamo chiamata una due volumi no diciamo una tipo tipo Audi A3 la nuova Polo Golf ok una tra queste macchine poi è stata individuata quale qual è però secondo la perizia di parte chiaramente poi ne parleremo quindi la telecamera riprende quell'incrociere si vede una macchina che sfreccia il camion che arriva e poi svirgola un po questa strada sono 700 metri praticamente dal caleido passare davanti all'incrocio che è ripreso dal benzinaio e riandare fino al punto in cui è stato trovato il corpo sono 700 metri passando dalla sterrata sono 390 metri ora una corsa d'allenamento d'allenamento fatta bene cioè d'allenamento da no da il jogging che fa la signora Maria ma un allenamento di atletica di una squadra che si allena con un preparatore siamo sui 4-5 minuti a chilometro voi calcolate che appunto quei 4 minuti eh quei 4-5 minuti Sara avrebbe coperto 700 metri ora 700 metri in 4 minuti dove poi devi ancora essere investita dalla macchina eh strattonata in qualche maniera perché gli mancherà l'orologio e un anello che sono invece presenti nell'ultima foto in discoteca e quindi ci deve essere il tempo di una colluttazione diciamola così il tempo di un investimento e poi il tempo in cui lei perde la vita e viene a quel punto sormontata dal dal canyon eh quindi c'è anche da capire come sia avvenuta la morte chiaramente la perizia del del primo grado dice che lei è morta prima che arrivasse il camion quindi questo è quello che dice la perizia di primo grado la famiglia invece la vede leggermente in modo diverso infatti poi chiederemo a Giulia e perché appunto io poi quando ho parlato con lei mi ha detto guarda potrebbe essere cosa quindi insomma già capirete che comunque c'è un tempo per cui in cui deve essere avvenuto qualcosa prima quindi lei non ha fatto quella strada in quattro minuti ma l'ha fatta in molto meno ora per fare in i 600 metri in due minuti devi correre veramente a quel punto saresti comunque altro che la scarpa slacciata doveva essere già iniziare a essere sudata comunque avrebbe dovuto avere insomma anche e poi comunque c'è il fatto che la telecamera non riprende nessuno che passa da quell'incrocio che corre a manetta ok perché avrebbe dovuto correre veramente per poi comunque farsi schiacciata da qualcuno quindi insomma già c'è un problema di tempistiche quindi per forza lei è stata è stata presa con un veicolo e portata quantomeno nei pressi di dove poi verrà rinvenuta quindi quel pezzettino lì lo deve aver fatto in macchina calcolando che appunto Matteo la lascia alle 3.19 e la vede incamminarsi camminando non è che la vede partire tipo cavallo da corsa ok quindi i tempi sono ancora ancora cioè lei vuole 3.19 la vede incamminare già vuol dire arrivare alle 3.20 se non alle 3.21 dove lei è ancora nella zona parcheggio e appunto è molto suggestivo anche questo fatto avevamo detto della cerniera della scarpa ma anche della mancanza dell'anello e del dell'orologio le ipotesi sono quella più squalida dello sciacallaggio quella più suggestiva che appunto quando è che chi è che ti ti toglie l'orologio e un anello qualcuno che ti strattone ti porta cerca di o riportarti in macchina oppure di trattenerti in macchina quindi lei potrebbe esempio essere uscita dalla portiera posteriore di una macchina posteriore sinistra poi può essere scappata e la macchina le ha dato non è stata investita cioè quella frattura che ha alfemore non è compatibile con un urto di una macchina in corsa ma sembra più che sia il colpo di una macchina in partenza che le ha dato appunto come messa in leva come trascinata mentre che partiva più che colpita mentre che andava ok poi ci sono chiaramente delle piccole scoriazioni oppure potrebbe essere perché ci sono delle scoriazioni anche al ginocchio mi ha detto Giulia poi eventualmente se già mettete delle domande quando poi faremo la seconda parte con Giulia magari cercheremo in base alle idee che che piano vi vengono così con le curiosità se volete approfondire alcune cose chiederemo se ci dice qualcosa al più veramente sempre con delicatezza mi auguro quindi una delle delle ipotesi è che potrebbe essere proprio saltata fuori dalla macchina trattenuta per un braccio picchi a terra si rompe il femore rimane a terra e poi perché la posizione interna alla strada significa che lei era in possibilità della portiera sinistra cioè quella del il guidatore non poteva essere lei che guidava una macchina che poi quindi per forza per essere dalla parte sinistra e quindi interna della strada doveva essere nella parte sinistra di una macchina in qualunque direzione andavi la parte centrale che sta verso la strada è sempre quella dei guidatori in Italia ok quindi per forza era da quel lato lì e per forza deve aver preso una macchina perché quei quattro minuti lì cioè quella strada in due minuti la puoi fare soltanto salendo sulla macchina che comunque è già pronta a partire e quindi questo è quello che più o meno ora parliamo della parte processuale parte processuale appunto si parte con la questione dell'omicidio stradale perché sembrava quella più più diciamo più scontata perché alla fine era in mezzo alla strada e poi verrà fuori che c'è qualcosa in più nel paese la gente mugola e comunque già viene fuori qualcosa perché c'era già qualcosa che non tornava viene fuori poi soprattutto con il il fatto dell'autopsia che comunque si apprende che era era già morta inizia tutto un'altra 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 come dire ricostruzione ok che bene o male individua un muro di gomma perché tutto tutto il paese sapeva più o meno cos'era successo tutti sanno tutti hanno chiaro cosa è successo praticamente però inizia a crearsi questa cortina questo muro di gomma e i motivi ci sono e appunto purtroppo si capisce perché c'è questo muro di gomma per chi poi conosce alcuni fatti il discorso è che purtroppo iniziano a serpeggiare anche delle io li chiamerei dovrei chiamarli dei pistaggi in realtà sono proprio delle cose vieche cioè arrivano a dire al padre di Sara che era un poliziotto della stradale in pensione quindi non è uno che non è del mestiere gli sono andati a dire guarda che tua figlia forse si prostituiva perché per essere lì a quell'ora e quindi arrivano a a cercare di dire questa questa versione qui eh capirete che non è la cosa più più carina che no che puoi dire soprattutto se non è vera quindi arriveranno si abbasseranno a questi livelli qui infatti i processi poi si evolveranno perché cosa succede che quando viene fuori la questione che c'è una scena mancante e quella scena mancante potrebbe implicare comunque un tentativo di violenza inizia a uscire un pochino di indiscrezioni la prima la prima questione che viene fuori è che ci sono delle persone che hanno visto qualcosa testimoniano cioè nemmeno vanno a dirlo comunque lo fanno lo vanno a dire alla famiglia quindi pur di eh in qualche modo congelare questo fatto e farlo emergere la famiglia eh denuncerà queste persone per omissione di soccorso purché questa storia venga fuori chiaramente viene archiviata nel frattempo riescono a far riaprire il caso come omicidio quindi non come omicidio stradale ma come omicidio grazie anche all'interessamento di parlamentari e eh insomma associazioni che seguono la faccenda e eh e lì poi succede un altro patatrack perché perché eh mh intanto con questo eh cioè pian piano man mano che si aprono i procedimenti e iniziano i processi la famiglia inizia a prendere i documenti a trovare i documenti con eh invece proprio il processo della riapertura delle indagini il processo per omicidio eh lì inizia un altro problema nel problema ora io non so se tutti siete al corrente della vicenda MT MTM scusate MTM cioè quelli praticamente che hanno una una società di consulenza criminologica eh legata a Bugalalla che eh soprattutto quest'estate ha vissuto un un dissing continuo con l'abruzzone c'è stato proprio le iene insomma c'è proprio una una faida molto grossa dove io appunto non cerco solo di dirvelo in modo giornalistico ma tutta cosa succede che il eh MTM era la consulente la società consulente eh della famiglia Scimmi non non l'avevano neanche spennati cioè avevano chiesto normale costo di una consulenza un po' più più approfondita però la stessa cifra che avrebbe chiesto qualunque altra agenzia quindi niente di ah così per quello che in questo caso qui eh niente di grave ora il cliché che viene attribuito all'M team è che loro ovunque vanno costruiscono lo stesso eh appunto lo stesso cliché la stessa narrativa cioè eh non è un suicidio non è un eh un un incidente non è ma è un depistaggio operato dalle forze dell'ordine che hanno imbrogliato fanno delle ricostruzioni fantasiose con i cellulari e eh con Facebook insomma che il cliché è sempre il solito e questa è l'accusa che viene mossa a MT quella qui paradossalmente però è il contrario cioè è la famiglia che già aveva individuato in qualche maniera un muro di gomma e e quindi semplicemente MT si è già trovata la narrazione che era quella quindi in questo caso no? c'è c'è questo piccolo c'è un accavallamento quindi fondamentalmente ehm il problema qual è? è che appunto allora la la gli esiti della perizia sono ve li dico così ci togliamo il dubbio la parte più interessante allora la la perizia dirà che c'è un problema intanto con i testimoni i testimoni di quella macchina perché la macchina si è capito più o meno via ehm i testimoni dicono eravamo in cinque i carabini le forze dell'ordine gli inquirenti di questi cinque ne chiamano a a sit a quindi a spontanee informazioni testimoniali quattro due di questi concordano due no il quinto scena mancante anche lui in realtà poi a quanto pare questo quinto è stato è stato fatto un TSO quest'anno quindi insomma già con la macchina aveva degli elementi di attenzione poteva avere questi questi quattro che hanno testimoniato i due che erano concordi in realtà secondo la perizia di M. Tim durante poi perché loro appunto hanno circostanziato qualcosa è avvenuto dalle diciamo dalle due quarantacinque in poi ok dalle dalle tre in poi che loro dovevano essere insieme in realtà a quell'ora lì dopo poco si chiamano quindi la la perizia cioè le testimonianze dicono noi eravamo in cinque in macchina e andavamo nei tali posti in realtà due dicono no io ero di qua io ero di là due dicono eravamo sì eravamo in macchina tutti insieme appassionatamente in quell'ora lì invece c'è una telefonata quindi tra i due telefoni degli unici due che concordavano dove uno è su una cella e uno è su un'altra ora lì non era capodanno che dici ci sono tutte le linee intasate e quindi i telefoni sono costretti ad aggrapparsi a un'altra parte della cellula o chissà dove no erano una serata comunque notte in un posto dove comunque le utenze non erano tantissime ma erano in due celle diverse quindi anche questa cosa qui dovrebbe mettere in in crisi no quelle quelle testimonianze invece no viene visto come tutto normale poi altra cosa che dalla perizia mteam si apprende è che l'account facebook di Sara scimmie è stato messo commemorativo nel mentre che il telefono era ancora in mano agli inquirenti portare a commemorativo che adesso è molto più strutturato ma all'epoca di che anno si parla del 2017 ancora era ai primordi con il concetto di commemorativo insomma lì mancavano praticamente sono quindi sono state archiviate tutte le eh eh puoi dire i dialoghi messager le tutte le insomma tutta la parte delle comunicazioni che legate al al facebook di Sara sono state archiviate quindi anche lì andrebbe fatto poi tutto un procedimento un'arrogatoria per avere tutte gli archivi e rivedere tutte le comunicazioni questo è stato fatto dall'inquiret perché questa la società non lo può fare deve farlo un giudice deve chiederlo non è stato chiesto non è stato fatto eh e quindi appunto la e poi è metterima ha fatto una superperizia sul video ed è riuscita a non solo a capire la macchina qual era il colore e a circostanziare le velocità e tutto quanto ma addirittura a trovare poi chi erano altri ragazzi che si vedono camminare nei video sempre dintorno poi emerge un'altra cosa brutta con la con la con la perizia m team che alcuni tabulati telefonici sono stati modificati e quindi alcune e lo stesso alcuni video praticamente sono state cambiate le date addirittura alcune al 1970 e poi ancora peggio i video che le forze dell'ordine avrebbero preso del circondario perché a quel punto cosa succede se l'incidente ti avviene qui ti prendi i i video della strada dopo e della strada prima per capire uno chi è scappato di là e da dove veniva chi è scappato ok e lo stesso dovresti vedere viceversa no perché qui abbiamo la macchina che scappa in un verso il camion che va nell'altro quindi hai bisogno di vedere cosa è successo dopo l'incidente sia da dove veniva il camion che dove poi scappa cioè dove scappano l'uno e l'altro ok ecco i video sono stati presi quelli di un'ora prima quindi sono stati presi quelli di eh cioè di un di un tempo per cui comunque non esistevano ancora non era ancora avvenuto il fatto e quindi i video che sono stati presi a quanto pare sono quelli di un'ora prima quindi e questo è il processo per l'omicidio che appunto essendo capitato nella dinamica M-Team al momento è come dire in stand by quindi la famiglia è in una forte situazione di disagio perché ha in primo grado il camionista assolto per non aver commesso il fatto ora andrà in appello però c'è il rischio che alla fine riven fuori vabbè è stata investita e chi se ne frega un po' la situazione alla Liliana Resimovic e quindi loro non vogliono quel tipo di verità perché è una verità monca ok e poi il discorso delle super testimoni appunto è archiviato e lì bisogna cercare di capire se riescono a essere portate a testimoniare invece nell'altro processo il processo quello più importante per l'omicidio al momento è finito nella bega M-Team e e quindi pare potrebbe essere stato un po' come dire ingolfato da questa situazione quindi capite che è una situazione molto complessa una situazione in cui c'è questo brutto muro di gomma poi ci sono altre questioni di dettaglio che però si va un po' troppo nel dettaglio però sono molto suggestive ancora di più del perché è stato insabbiato e di come è stato insabbiato quindi vi lascio poi magari a quello che dirà Giulia che appunto le cose le conosce io rischio soltanto di mettere in bocca cose che è bene che insomma non mi sento di raccontarvi perché appunto sono si va un po' troppo nel dettaglio delle petture perché qual è il problema perché non si sente mai dire chi è ma allora ma con chi era ma con chi non era chi c'era in quella macchina e questo è uno dei grandi successi del muro di gomma io giornalista che voglio dire stato tizio non lo posso fare o meglio se lo faccio poi mi assumo le conseguenze esempio è Francesco Amicone per la vicenda JB ok però nel momento in cui uno è scritto sul registro degli indagati e gli arriva l'avviso di garanzia a casa i giornali ne possono parlare tranquillamente quindi qual è il fatto che questi testimoni i cinque dell'avemaria no i cinque della macchina non sono mai stati indagati non essendo mai stati indagati nessun giornale ne può parlare e nemmeno io ne posso parlare si può dire guarda loro sono testimoni punto ma ma neanche il nome si sa quindi poi in realtà il paese a quanto pari tutti i segreti però il fatto per cui non troverete mai chi sono queste persone è perché appunto non essendo mai stati inseriti in un è anche difficile poi poterne parlare è impossibile perché rischi i settelli nomini giustamente insomma giustamente dal punto di vista delle regole della legge italiana ti prende una brucia quindi capirete la famiglia comunque ha anche questo problema di non poter fare come dire un'accusa esplicita chiamiamola così ok però fondamentalmente è quello e poi subentra voi noi a Livorno avendo vissuto il Moby Prince io per anni infatti ho detto anche a Giulia guarda io capisco benissimo perché per anni con il Moby Prince se te dicevi Moby Prince ma chi quelli che guardavano la partita quando invece non poi è emerso che loro sono morti al loro posto in cui dovevano essere per gestire l'emergenza quindi la partita non c'entrava con nulla però entri in quella brutta situazione lì in cui a un certo punto diceva vabbè sono quelli che rompono le coglioni per fino a che poi la cosa non ridiventa un problema di sentito nella comunità e allora tutta la comunità torna a interessarsi al fatto noi ci abbiamo messo anni a Livorno perché la cosa di diventasse un problema della città avere risposte per quello che era successo e lo stesso loro stanno cercando di come dire di di far sì che comunque sia anche la comunità a proteggere la memoria e la storia di Sara però capirete che sono situazioni molto complesse dove ti scontri poi con muri di gomma con con impotenza e l'impressione di non essere tutelata dallo Stato che è quello poi che è la cosa più brutta di pensare che lo Stato non sia in grado di provvedere alla verità per questi fatti quando invece poi cerca in altre situazioni di importi la verità ok quindi è una situazione molto è una storia che a me mi ha affascinato per la sua complessità e infatti sono stato onorato di sentire Giulia per telefono e sentire ancora quanto lei ecco un paragone che possiamo fare è con la vicenda di Michele Tollis e le bestie di Satana cioè dove un padre per anni e tuttora continua a indagare per una verità che lì era un gruppo e qualcosa di bocca forse più che si autodifendeva e qui è praticamente uguale quindi è il coraggio la forza e la rabbia anche di una famiglia che non ci sta ad accettare che la nebbia possa calare su una persona su una vicenda poi così grottesca infatti immagino la tensione di questi giorni perché ripeto come abbiamo detto prima noi stiamo registrando è il 17 fra due giorni ci sarà l'udienza il tribunale e la famiglia è chiaramente in tensione in attesa di sapere quello che accadrà naturalmente su questo canale saremmo ben lieti di ospitare Giulia e di sentire i dettagli di tutta la faccenda sicuramente lei ci saprà spiegare ancora meglio quello che è accaduto a sua sorella nell'attesa direi di chiudere qui se hai qualche domanda io lo saprei anche un po' qual è la sua impressione perché perché l'idea ti sei fatta perché io avendo parlato con Giulia sposo molto la tesi anche per una questione di veramente anche vedendo io tra le varie cose ho insegnato educazione fisica sono insegnate scuola guida quindi non male investe tante tante questioni mie cioè il fatto di non poter fare quella quella distanza lì se non veramente ho a corsa come una forzennata ma avresti poi avrebbero vista tutti corre come una pazza oppure appunto devi essere e poi c'è tutta la dinamica che avviene quindi di di diabilità ok appunto è stata investita poi è stata sormontata quindi c'è anche poi tutta una dinamica e quindi per me sposo tranquillamente una tesi di comunque di un'aggressione perpetrata in un veicolo e poi è avvenuto però voglio sentire la tua di anche io penso questo io credo che probabilmente Sara era fuori dalla discoteca quando viene vista da Matteo perché stava aspettando qualcuno che era andato a prendere anche perché nel percorso che avrebbe dovuto fare a piedi quello di 700 metri ci sono le telecamere e lei non viene ripresa vengono riprese altre persone che passano e non lei quindi per forza deve essere salita su un'auto quindi immagino che era lì davanti ad aspettare qualcuno che l'andasse a prendere magari si avvia verso quell'incrocio perché magari è lì che era più comodo aspettare la persona con la macchina e certamente appare grottesco che possa essersi messa distesa in mezzo alla strada a parte i 4 minuti ma anche mettersi distesa è chiaro che da come viene ripresa anche dalla telecamera lei non viene vista mai in piedi quindi ipotesi che si può fare è che effettivamente sia ruzzolata via da un altro mezzo e quindi poi purtroppo è sfida dal camion sembra un'ipotesi più logica rispetto a altre che se ne sono fatte anche un po' cattivelle come quella della prostituzione anche perché se lei diciamo fosse stata ubriaca è per assurdo vogliamo fare l'ipotesi che sia riuscita a percorrere quella strada in 4 minuti e si sia andata lungo quella strada quella statale e non poteva trovarsi al centro di essa doveva essere per forza ai margini impossibile che era al centro anche perché insomma le macchine passavano nonostante l'ora tarda c'era un via vai di macchine come faceva a trovarsi al centro esraiata l'idea che lei sia ruzzolata fuori da qualche altro mezzo di trasporto ma poi è una strada che io ho percorso e varie volte perché è la strada che porta da Empoli a Siena quindi non è neanche una strada poco trafficata anzi quindi in quei paesi lì è chiaro che chi vive in un paese come me io adesso prima stavo in città adesso sto in un comune accanto e qui so che se sono qui sotto casa posso mettermi a prendere il sole estraiato per strada ok ma non lo posso fare sulla statale che ciò che è a 50 metri da qui quindi lì lo stesso si sa che è una strada pericolosa uno se la fa la fa malvolentieri a piedi e se la fa la fa sul manciapiede o addirittura fuori da 15 e quello e tra l'altro io mi sono appassionato al caso per caso perché passando di lì ho visto la targa proprio che c'è in legno per Sara non c'è scritto assassinata e quindi come assassinata era un fatto che io non conoscevo questo mi sono appassionato appunto assassinata quindi ho preso la data ho guardato sulle notizie e poi ho scoperto tutta questa vicenda che purtroppo è passata anche da chi l'ha visto è passata anche dai programmi mainstream però non è non ha l'attenzione che in realtà si meriterebbe eppure è finito anche il Parlamento però non è un caso che dici proprio come può essere perdita Liliana che ormai conoscono tutti Sara Scazzi eppure è un caso ancora più intrigato di quello di Liliana Resinovich però non riesce a sfondare anche lì il muro della diciamo della rilevanza perché quello deve essere della rilevanza infatti in una trasmissione sul web che vedevo Giulia parlare di questo caso diceva proprio questo che non riuscivano ad attirare l'attenzione su ciò che è accaduto e per quello si sono dovuti rivolgere a dei parlamentari che effettivamente poi si sono prestati a aiutarla in linea di massima ecco quindi importante ragazzi date sostegno comunque alla alla famiglia parlate perché veramente è un è un rebus è un rebus che poi appunto la soluzione è scontata però tuttora anche anche ipotizzando sono comunque tutta una serie perché dice ok poi perché come erano messi in macchina chi c'era effettivamente se non se non erano perché alla fine se erano in due ma non erano in due perché loro dicono erano un 5 ok di questi 5 le intervistano 4 due erano insieme secondo quello che dico a loro e comunque secondo quello che insomma sono l'unici che concordano tra di loro ma in realtà non erano insieme quindi questo qui con l'altro con quello del TSO e se lei era dietro perché se lei comunque è scappata a sinistra da una macchina cioè dalla parte di sinistra di una macchina vuol dire che c'era un'altra persona dietro allora erano 3 più lei in quella macchina quindi ne manca un'altra ancora non combacia considerando anche che anche fossero in 5 comunque tenere una ragazza la potevano tenere anche in 6 insomma c'entravano nella macchina forse loro hanno detto di essere in 5 proprio per per questo ma una ragazza si può tirare dentro la macchina pure 6 in 5 anzi sì anche un attuale funga della ragazza che viene trattenuta e gli viene sfilato l'orologio e l'anello nel tentativo io penso che dire di essere in 5 quando a quanto pare ci sono dei dubbi e fossero in 5 potrebbe essere un espediente per dire guarda siamo pieni capito ovviamente lo hanno detto per questo però anche fossero in 5 è possibile lo stesso caricare una macchina una ragazza forza dentro non ti rende innocente e si spiace appunto spiace che noi che siamo un paese comunque occidentale comunque del primo mondo eccetera eccetera abbiamo ancora un problema grosso di come dire di tutela ogni tanto della della dignità poi delle persone dei diritti delle persone quindi pure ma comunque poi lo vedete non c'è uno stato dove dice ah lì la la giustizia è applicata perché alla fine c'è un problema oggettivo che è o metti le telecamere addosso e un poliziotto addosso ogni persona però cioè non purtroppo ci saranno sempre questi buchi di trama soprattutto quando poi c'è anche una cattiva gestione delle indagini chiamiamola così ecco e insomma comunque la prossima prossima volta che tratteremo l'argomento ci dovrebbe essere direttamente Giulia quindi preparatevi le domande studiate che poi sarà bene insomma fai sentire anche a Giulia la vicinanza comunque degli amici di Angelo Marotta speriamo che il processo vada secondo nel loro secondo che loro si aspettano insomma che la famiglia si e che poi sia appunto che più che altro che il processo quello per omicidio che proprio riprenda il via perché insomma cioè fermare una cosa perché c'è un dubbio sulla perizia fai una super perizia d'ufficio fatta bene il problema è risolto perché comunque il appunto i detrattori di M Team giustamente dicono guarda che appunto hanno questo modo di fare fanno sempre la soluzione hanno messo nei cassini tante persone e lì sarà di capire il giudice dovrà capire appunto cosa c'è di vero nella 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 perizia e cosa no però esistono appunto le super perizie le ctu proprio questo perché dice ok comunque sono perizie di parte già il fatto che il ctp cioè perizia comunque di parte già sai che comunque già sai è brutto perché noi siamo abituati a vederla così però in realtà la ctp cioè c'è un pregiudizio no nella nella ctp nella perizia di parte perché dice perché ha interesse dell'indagato o all'interesse dell'accusa di come dire di pilotare la verità ok il il brutto è che pretesto che la cosa si fonda sul fatto che appunto la scienza di per sé non è monolitica ma tutto è interpretabile quindi c'è un relativismo di base per cui l'oggetto può essere bianco può essere nero a seconda di determinate questioni di carattere fisico o scientifico eccetera eccetera e quindi alla fine con le perizie si riesce a dir tutto e contro quindi c'è questa insomma quella che è la percezione poi è questa ok che c'è questo questo relativismo diciamo sulle 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 perizie e per questo sono quelle tecniche d'ufficio dove te hai un perito nominato dal tribunale in questo caso proprio dal giudice della parte giudicante che fa una perizia a tutela sia dell'accusa che della difesa e quindi cercare di fare una super perizia che vada a chiarire tutti gli aspetti di tutte le perizie possibili e cercare poi di trovarne una che diciamo chiamiamola d'equilibrio ok ma che comunque alla fine certifichi quella che è la cosa più plausibile una volta che più o meno si è capito quale possa essere le dinamiche eccetera quindi la speranza è che appunto ci sia interessa quanto pare appunto Giulia mi ha detto che ci sono state delle PM alcuni sono stati allontanati prima perché diciamo non hanno fatto soltanto danni per il caso di Sara ma anche per altre vicende e quella invece che adesso ha preso la questione dell'omicidio sembra molto come dire orientata a trovare la verità è quello che in fondo tutti vogliono solo la verità quello che è successo a questa ragazza per darle giustizia allora Franca telechiusure allora vuoi dire qualcosa vuoi chiedermi un'altra cosa poi no no va bene così allora chiudiamo grazie per l'ascolto a tutti buonasera vi saluto con la tromba e con l'imbruto con l'imbruto se un cane bau se un gatto miau se tardi ciao così abbiamo rispettato i riti di casa Marotta buonanotte a tutti alla prossima